La Basilica di Colle Maggio, simbolo di l'Aquila e custode della Porta Santa, torna ad essere fruibile al culto dopo i lavori post-sisma 2009 e un investimento di 14 milioni di euro da parte di Eni. Per rispettare le specificità artistiche e gli studi preliminari hanno preso in esame tutti gli aspetti di natura storica, culturale e strutturale. Gli interventi successivi di restauro sono stati circoscritti lasciando inalterate, ove possibile, le parti originali dell'edificio. Progettazione e direzione dei lavori sono state curate dalla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Aquila e cratere. Alla cerimonia di riapertura ha presenziato il ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini, insieme al sindaco di l'Aquila Pierluigi Biondi, al funzionario Eni Claudio Granata e alla soprintendente Vittorini. Nel 2009 la sequenza sismica provocò gravi danni alla Basilica di Santa Maria. La chiesa fu coperta da una struttura provvisoria realizzata in ferro e vetro, puntellata e ingabbiata al suo interno. Dopo una prima apertura è stata di nuovo chiusa nel 2013 perché giudicata non sicura e riaperta soltanto durante la perdonanza per consentire ai pellegrini di attraversare la Porta Santa e ricevere l'indulgenza plenaria. Ad ufficiare la liturgia della benedizione della Basilica l'Arcivescovo Giuseppe Petrocchi. La riapertura del luogo di culto ha anche consentito il ritorno a casa delle spoglie di San Celestino V, traslate dall'Oratorio di San Giuseppe dei Minimi dai Vigi del Fuoco del Comando Provinciale. Da giovedì 21 dicembre la Basilica sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9.12.30 e dalle 15.30 alle 18.00. Grazie a tutti.